Teodoro Coppo, la responsabile dell'Academy, questa affiliazione tra il Torino e il Don Bosco? È un progetto che nasce, l'ambiente parla chiaro, c'è un codice etico importante dove il Torino ha riconosciuto in questa società dei valori, come il Torino gli contraddistingue dei valori importanti e insieme cercheremo di condividere la crescita esponenziale di questi ragazzi. Busa Caiva, direttore tecnico del Don Bosco, un commento su questa affiliazione che si prospetta con il Torino? Siamo qua, questa è la presentazione di questa affiliazione che partirà da luglio, siamo molto felici e sono molto onorato di portare questo progetto qua nel Don Bosco Valle Crosia. Avremo un felice lavoro da fare insieme al Don Bosco Valle Crosia e Torino FC.